aaaaaaah ma è molto ignorante quest'esca è ignorantissima è bello ha il muso di un tarpa un tipo penso che la marca si chiama relisi a me non fanno li prendi li prendi e li perdi ecco lui sono autoslamanti per un no kill più responsabile andiamo a pescare hai voglia? questo canne ce l'ho beh lì c'è proviamo a scendere bravo io traino è da mesi che traino è da mesi che traino non ho perso la voglia attenzione tu sollevi invece più professional più da pro staff qua c'è già il primo inghippo però non è forse era meglio guardare prima 3,2,1 devi andare giù eh no eh sì è l'unica andiamo giù di la si può andare giù di la? c'è una discesa vai giù la e scendi dove c'è quell'albero beh si può anche fare se dobbiamo andare giù da lì non è guarda ma non è non è non è non è ah no, ma è facile, è facile c'è un pago nel culo ha decisamente meglio perché ti nascondi dietro l'albero alla finalmente siamo in pesca è meglio che per quando avrò 50 anni ci ho già comprato la barca ma se riuscirò a mettere in acqua a fare sti stretching per metterle pine alle 6 del mattina no lo spero anch'io mike me lo farò passare dall'ulso guarda che che livrea maccarella maccarelloso veramente hai capito io con cosa devo pescare per prendere questi pesci ma che lungo che è? è mai lungo eh voglio misurarlo cosa dici? mi scappa 32 32 31 e mezzo sono anche 11 sui 35 35 è lungo fotte secondo me qua fotte è vero che c'ha quei 2 cm lì di coda lunga mettitelo qua guarda che non volevo sporcarlo di pesce 34 34 34 34 non pensa a te ma dove stai andando? no l'hai persa è ben release dai dai speraci arrosticini costine punte di maiale e due bistecche polenta e pane pezzo forte della giornata quello che ci ha fatto venire qua è questo qua cosa? costine ok ho solo detto costine ok corlo va bene i condimenti cazzo vabbè o nuda e cruda vecchia queste sono già salate per dirti o possiamo usare questo condimento che c'è qua un po' adesso è la prima è la prima uscita estiva e vediamo come va speriamo vado tutto dove andando e belli dov'è? ecco lì ed è appena arrivato tac poi in belli dall'altra parte io e mike invece abbiamo 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 una cosa da fare io e mike no no che dici? eh abbiamo programmi importanti per il per il prato c'è più diavolina accendere si accenderà quello guarda ci metterai già la carbonella qua dietro si metterai ma anche sopra è un po' come farai il delirio? ma metticele sopra o no? direttamente? si così dopo vai 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 lasciamo qua cosi ahahah puoi accendere tutto cosi mettici un po' facciamo un po' di accedi vai mike si è la scuola dei piromani ci siamo diplomatman 2012 guarda rischio dell'azione è partito è partito è partito mike ha l'effetto mongoli secondo me ha l'effetto mongoli ha l'effetto mongoli quella del sicuro ma qua non si può accendere il fuoco città ahahah 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 guarda che qua secondo me è la mia moglie così riusciamo a tenerlo anche forse un po' alimentato no? si esatto vedi come ho fatto come se ce ne aggiungiamo ancora un po' lì alla birra ops hai squirtato sai che secondo me sotto mi sembra tanto bello andando ah no perdevo di più si si giusto dai eh sono andate lente eh